Oh no! Battete! Porca miseria! Svegliati! Battete! Porca miseria! Bibis! Stavo dormendo! Eh, lo so! Ma guarda! È sparita! Eh... cosa? La TV! Ma sai che è vero? E che cazzo l'ha presa? E io che cazzo ne so! Mi sono svegliato e poi non c'era più! E poi la finestra e mille pezzi! Oh! Non torna! Non va più! Bella ragazza! Proprio bella! Aspetta! Impossibile! Non ci credo! Wow! Ho veduto la luce! Bibis! E sarebbe... Che questa roba è una merda! È vero! È una merda! È una delle merda più merdose che abbiano mai cagato l'essere umano! Dobbiamo trovare sto pezzo di merda che ci ha fregato il televisore! Ah! Sto pezzo di merda che si mangia la merda al figlio di una buona madre! Ah! 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 Grazie a tutti.